Simone Farelli, domanda facile facile, la prima di questa intervista, propositi per il 2019? Sicuramente, mi sembra questa, troppo diretta come il proposito, sicuramente confermare quanto di buono è stato fatto nel giro di andata, può essere scontata come frase ma in realtà non lo è, partiamo da delle certezze che sono i punti e quelli sono fondamentali. Il Cremonese che ha vinto prima della sosta ha travolto il Perugia 4-0, veniva da tre sconfitte consecutive, non sta rispettando le attese della vigilia perché è una squadra comunque attrezzata per un altro tipo di campionato ma c'è un intero giro di ritorno, in trasferta fa molta fatica, soltanto quattro pareggi e altrettanti sconfitti. Questo è quello che ha detto il giro di andata, come diceva, riallacciandoci a quello che ci siamo detti prima, per noi sarà importante confermare quanto è stato fatto all'andata e la Cremonese farà di tutto per smentire quanto è successo all'andata. La Serie B ci ha insegnato che non si può sottovalutare nessun tipo di partita, questo in quest'anno ma tutti gli anni in precedenza e loro vengono da un 4-0 che sicuramente nella mente gli avrà dato alcune certezze. È una squadra dall'organico importante, non si può sottovalutare, la ripresa è sempre un qualcosa di delicato. Palermo sconfitto in casa ieri dalla Sernitana che ha giocato un'ottima partita, questo che cosa significa? Si può fare? Senz'altro si può fare, ci ricolleghiamo anche qui al discorso di prima, che la Serie B è un livello talmente equilibrato che affrontare una partita un po' sotto tono, che poi in realtà Palermo non ha affrontato sotto tono, ha sbagliato solamente alcune decisioni proprio tecniche e la Sernitana è stata molto molto brava a capitalizzarle e a riacciuffare con tre punti all'ultimo secondo. Simone Farelli è molto bravo dialetticamente, non riesco proprio a metterlo in difficoltà, però possiamo dire senza tema di essere smentiti che se ne intende come di promozioni in Serie A, perché in carriera ne ha due con il Siena nel 2003, tra l'altro la prima storica era giovanissimo, ma faceva parte dell'organico allenato da Papadopolo e poi nel 2011 con Conti. Sì, sono state due grandi promozioni che porto nel cuore, è una città dove io sono cresciuto, dove è cresciuta anche la mia famiglia e in entrambe trovo un punto comune che è l'aspetto umano dei ragazzi, perché alla fine i valori tecnici sono quelli fondamentali che si portano in mezzo al campo per sconfiggere l'avversario nel risultato, ma poi sono i valori umani che ti permettono di stare sul pezzo in un campionato lungo e affrontare quei momenti negativi che indubbiamente ci saranno in un campionato. Come è stato qui, dove magari una flessione di risultati, perché parlare di momenti negativi era più tema giornalistico che tema sportivo, giustamente ognuno fa il proprio mestiere, una flessione di risultati è stata affrontata con l'aspetto morale, cioè stretti, uniti e compatti, e da lì ce ne siamo venuti fuori. Sul piano del gruppo c'è una similitudine tra Siena? Sì, lo spero proprio che sia in tutti i modi, così alla fine magari ci sarà anche da festeggiare.